ciao Rita buongiorno buongiorno a tutti ciao Rita allora io prima di presentarti vorrei raccontare come ci siamo conosciute io ho fatto qualche video sul mio canale relativamente agli argomenti manipolazione guru narcisismo spirituale e poi sono passata ho finito questo argomento e sono passata a parlare un po della questione femminile mentre stavo finendo questo argomento mi sei comparsa tu nei commenti e mi hai scritto no quest'argomento importante questo con questo argomento merita sempre di maggiori e ulteriori approfondimenti allora io mi sono incuriosita sono andata a vedere la tua pagina instagram e ho conosciuto il tuo progetto che per me è molto importante e merita la massima attenzione e pubblicità quindi la pagina instagram si chiama la pulce nell'orecchio vuoi raccontarci e dirci come è nata questa pagina e questo progetto sì grazie vi racconto tutto allora la pagina nasce in risposta alla vicenda accaduta mia sorella che brevemente la racconto perché magari non tutti la conoscono mia sorella Roberta è morta a 40 anni per un melanoma causato da un neo tolto senza esame istologico né anestesia su un tavolo della cucina di un centro olistico in liguria dal dottor paolo neda dirigente medico dell'ospedale di manervio alla presenza di paolo bendinelli guru del centro anidra di bordonasca che con subito le tecniche di manipolazione mentale secondo la procura di genova e le perizie del tribunale ha plagiato mia sorella e l'ha portata a credere che quell'operazione fosse necessaria per raggiungere la sua illuminazione inoltre aveva effettuato una diagnosi energetica col suo terzo occhio queste sono tutte cose che sono agli atti e aveva detto che questa operazione si poteva fare secondo lui non ci sarebbero stati problemi allucinante è stata questa operazione allucinanti sono stati due anni successivi in cui mia sorella ha patito le pene dell'inferno perché i dolori sono comparsi fin da qualche mese dopo l'operazione e lei si è sempre confidata con i due colpevoli di omicidio perché adesso abbiamo una sentenza del 23 settembre scorso quella condannati per omicidio colposo i rimedi che i due suggerivano mia sorella per i dolori sono stati tisane zuccherate succo di limone sulla ferita saune meditazione bagni nel fiume ghiacciato quindi è stata veramente una cosa allucinante anche perché noi abbiamo scoperto tutto post mortem e nel momento in cui noi abbiamo aperto i suoi diari e letto le sue mail letto le sue chat abbiamo ci si è aperto veramente un mondo dell'orrore ed è stato quello quel materiale che ci ha permesso di presentare un esposto alla procura della repubblica io non potevo non fare niente perché è stata una cosa veramente troppo grossa e dolorosa e volevo veramente che tutti riuscissero a comprendere quali sono i comportamenti tipici di chi sta entrando in una dinamica settaria perché io mia sorella l'avevo sotto gli occhi io sono stata spesso al centro anidra come i miei genitori mio papà ci ha anche soggiornato una settimana tanto per darvi l'idea ma loro facevano vedere quello che volevano far vedere insomma io non sono non ero non sono una psicologa una criminologa non avevo prima gli strumenti per capire certi comportamenti certi atteggiamenti di mia sorella o di questi personaggi adesso che purtroppo li ho acquisiti non posso non condividerli col mondo e quindi la pagina la pulce nell'orecchio prima e l'associazione dopo perché settimana scorsa ci siamo costituiti associazione vera e propria vuole proprio essere un aiuto concreto per tutti per aiutare a riconoscere questi segnali perché ce ne ci sono dei comportamenti che fanno capire che una persona se entrando in un culto distruttivo noi ci facciamo aiutare da esperti stiamo ricevendo tantissime segnalazioni appieno davvero in italia di questi movimenti controversi e noi semplicemente li indirizziamo agli esperti perché ripeto io non ho nessuna competenza se non quella di adesso di aver compreso questi atteggiamenti appunto e vorrei che più persone possibile le riconoscessero grazie Rita io infatti ci tengo tantissimo a questa intervista con te proprio perché quello che vorrei emergesse immediatamente da questa intervista e che secondo me le persone non colgono è che tutti ma veramente tutti possiamo cadere in una situazione del genere per fortuna le estreme conseguenze sono più rare ma conseguenze non estreme ma meno gravi o anche lievi ma pur sempre conseguenze psicologiche ci sono in persone che vengono a contatto con gruppi di qualunque tipo perché tu hai parlato di un gruppo spirituale ma ci sono dei gruppi sportivi dei gruppi di danza dei corsi di crescita personale io sono assolutamente sicura che ogni utente che sta guardando questo video nei suoi contatti ha almeno una persona che è coinvolta in un gruppo che ha dinamiche settarie per fortuna le estreme conseguenze sono abbastanza rare ma porre l'attenzione a questa tematica è fondamentale per cui dovete seguire la pagina la pulce nell'orecchio e diffonderla il più possibile perché io stessa che sono una persona che sono ritenuta abbastanza equilibrata da chi mi conosce sono laureata sono curiosa di questi temi quindi ho letto nella mia vita tanti libri di psicologia ho letto di questi temi però ho incontrato gruppi che avevano dinamiche settarie per esempio nelle arti marziali che sono una mia grande passione o anche in gruppi di formazione certo tra l'altro secondo me dopo l'emergenza covid 19 e questa recessione economica le persone giustamente sono provate psicologicamente e c'è proprio una fame di signi è vero di significato di tematiche spirituali per cui è molto importante tenere l'attenzione critica accesa su questi temi proprio perché anche certe organizzazioni di formazione piramidale ora naturalmente noi non facciamo nomi e non possiamo fare nomi che propongono alimentazioni pratiche sessuali bisogna stare molto attenti e a questo proposito Rita ti chiedo quali sono i segnali più comuni che devono far suonare un allarme in noi sono e io addirittura ve lo faccio vedere gli ho elencati in questo segnalibro che sto cercando di donare a tutti i ragazzi delle scuole superiori perché secondo me è giusto partire proprio dai giovani d'oggi gli adulti di domani io l'ho proprio scritti e ve li leggo quindi se in una persona cara notti allontanamento dalla famiglia mia sorella aveva iniziato ad allentare i rapporti con noi incapacità di prendere decisioni autonome e perdita del pensiero critico venerazione per una persona modifica di comportamenti alimentari interruzione o modifica improvvisa di trattamenti medici se in atto modifica dei modi di vestire risposte vaghe ed evasive a domande inerenti la sua nuova vita attenzione perché tutti questi campanelli potrebbero voler dire che una persona cara sta entrando in contatto con un culto distruttivo io non voglio dire che tutti i centrolistici sono delle sette che tutti ecco questa di nuovo assolutamente no lanciare appunto però attenzione sono una persona cara che sta iniziando a frequentare un nuovo gruppo di persone notate queste cose occhio io appunto voglio mettere la pulce nell'orecchio dirà perché io non lo avevo questo in mano magari non sarebbe cambiato niente però se io insomma se qualcuno mi avesse detto mi fosse imbattuto in qualcuno che mi avesse detto guarda che se tua sorella non viene prima natale cambia modo di vestire parla sempre di questa persona attenta ecco forse sarei stata ancora più attenta di come comunque siamo state perché dico noi sapevamo bene che frequentava questa realtà un po' particolare perché certo magari alternavano periodi di digiuno ad altri in cui mangiavano solo carne però che gli dici è una persona intelligente laureata poteva essere libera di vivere la sua vita il suo tempo libero come voleva quindi c'era anche un po' un rispetto della privacy che sembrava contenta ci diceva che stava bene invece anche se una persona a voi cara vi dice che sta bene ed è serena ma avvertite queste cose occhio io semplicemente voglio lanciare veramente tutti questo messaggio grazie Rita perché noi adesso stiamo parlando in un video ma ricordiamoci che la realtà è molto più complessa quando poi ci troviamo davvero di fronte a un gruppo che si riunisce attorno a un'idea molto forte non è sempre facile riconoscere se si tratta di una passione e quindi di una cosa sana oppure se si tratta di qualche cosa di tossico e distorto il confine a volte è molto sottile a me viene in mente quest'esempio non so se può aiutare i nostri utenti per esempio se tu vedi una persona che tutte le mattine va a correre e la vedi corre 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 diventa sempre più magra allora è una persona che sta portando avanti una disciplina e un hobby sano che le fa bene alla salute o è una persona che vede nella corsa una dipendenza e qualche cosa di maniacale che in realtà le sta levando la salute beh non te ne puoi accorgere guardandola passare tutte le mattine ci vuole un occhio più esperto e ci vuole un approfondimento perché la corsa di per sé non è né una cosa buona né una cosa cattiva ma l'uso che ne fai come la prendi esattamente bravissima come viene utilizzata esattamente il rapporto che tu hai con l'allenatore che cosa ti dice anche perché ci sono dei segni a volte macroscopici per esempio se una persona ti chiede tanti soldi ma molto spesso questi gruppi e queste sette per esempio agiscono esatto magari chiedono il tuo lavoro gratuito non ti chiedono soldi ok chiedono dei piaceri oppure se tu approfondiscono sono assolutamente subito e bravi a muoversi senza destare troppi sospetti ovviamente c'è assolutamente ricordiamoci che le persone che riescono a organizzare attorno a sé una setta o comunque delle persone un pochino dipendenti che fanno quello che dicono loro per cui loro riescono ad avere il controllo sono persone che sono esperte di manipolazione ci sono anche per i ragazzi e anche per i meno giovani dei documentari netflix che non parlano di sette ma che parlano di illusioni e di manipolazione che sono molto interessanti da guardare proprio per capire questa cosa che tutti noi dobbiamo avere attenzione perché tutti noi abbiamo dei momenti di vulnerabilità di fragilità in cui ci sentiamo un po' spersi e questi gruppi si presentano come una famiglia come persone che ti capiscono come persone che ti aiutano e molto spesso anche i familiari e gli amici quando conoscono questi gruppi rilevano proprio delle caratteristiche di persone magari affascinanti interessanti perché loro sono così sarebbe troppo facile se fossero immediatamente manipolatori tutti ce ne accorgeremmo invece no assolutamente si presentano come un gruppo di persone accoglienti sorridenti ti valorizzano nei tuoi talenti ti senti amato come non mai è classico l'up bombing è la prima tecnica di adescamento adepti sì nessuno entra in una setta sapendo di entrare in una setta e nessuno si ritrova davanti persone incappucciate che compiono riti strani sono gruppi normalissimi di persone per questo che bisogna attenzionare maggiormente le persone esattamente grazie rita infatti i gruppi a cui mi è capitato di appartenere che avevano alcune dinamiche settarie e perché io sono molto trasparente con il mio pubblico quindi anche a me è capitato sono ancora assolutamente attivi e più forti di prima io semplicemente me ne sono distaccata è anche inutile cercare di convincere tutti o esporli nel mio caso perché è assolutamente inutile sarebbe controproducente ma porre attenzione su queste tematiche e diffondere quali sono appunto le caratteristiche di una setta invece lo trovo molto molto interessante e anche per me doveroso perché io ho un determinato tipo di carattere un pochino assertivo forse possiamo dire anche un pochino rompipalle che mi ha sempre protetto ma non tutti hanno il mio carattere e quindi e quindi per me è importante dare questo piccolo contributo e rita io ti vorrei chiedere quindi hai una con tutte le indagini e gli approfondimenti che hai fatto tu puoi spiegarci un pochino meglio che cos'è una setta si la setta è un gruppo o un movimento con a capo un leader carismatico e un'ideologia questo leader è un grande manipolatore capace di leggere le persone fornirà tutte le risposte a tutte le tue domande e offrirà messaggi che risuoneranno per gli adepti ed userà gli adepti per reclutare altre persone quindi molto semplicemente è questo un gruppo con a capo un leader è vero è sempre così e questo leader vorrei solo aggiungere una cosa perché mi è capitata personalmente ci tiene molto ad essere superiore vi consiglierà dei libri e non potrete ad esempio leggerne altri vi consiglierà degli autori o delle pratiche da fare ma se voi gli suggerirete altre pratiche o altri libri che vengono dal vostro bagaglio di conoscenze lui o lei più spesso lui questo bisogna dirlo comunque anche ci sono ci sono assolutamente ci sono anche al femminile loro vi diranno sì sì informati ma con calma vai piano perché ovviamente voi non potete saperne più di loro assolutamente assolutamente loro hanno l'ultima parola su tutto piano piano annullerà il pensiero critico e la volontà dell'adepto perché solo lui sa cosa è buono per te è questo esattamente e se riconoscete alcune di queste caratteristiche o dinamiche che Rita sta descrivendo a chi ci si può rivolgere per chiedere aiuto sì in primis al CESAP che il centro studio abusi psicologici la cui presidente è la dottoressa Lorita Tinelli che è la massima esperta in Italia del fenomeno settario tutti i numeri li potete trovare sulla mia pagina la pulce nell'orecchio ma ve li posso già dire potete contattare il CESAP all'indirizzo mail cesapollus99chiocciolagmail.com o al numero telefonico 3382396939 oppure potete contattare noi dell'associazione ancora che lo siamo la pulce nell'orecchio all'indirizzo mail lapulce2022chiocciolagmail.com su instagram in direct noi rispondiamo praticamente 24 ore su 24 stiamo ricevendo tante segnalazioni che poi giriamo alla dottoressa Tinelli chiediamo supporto appunto perché noi non siamo competenti ne facciamo da tramite e poi appunto torniamo ascolto oppure il numero telefonico 392 15 60 551 perfetto grazie mille Rita e volevo chiederti lo abbiamo già un po accennato prima immagino che tu ci abbia riflettuto e pensato tanto quali sono secondo me alcune tra le motivazioni che possono portare a rivolgersi e poi a restare in una setta allora sicuramente come vi dicevo prima nessuno entra in una setta sapendo di entrare in una setta quindi le persone si avvicinano a gruppi di ascolto gruppi di meditazione centri olistici anche corsi per arricchirsi perché magari o stanno attraversando un momento di fragilità della propria vita che attraversiamo tutti quindi questo è il messaggio importante nessuno deve pensare che a queste cose a lui non succederanno mai perché pensate a un lutto una separazione a un litigio se in quel momento incontriamo che ci promette di stare meglio semplicemente ci affidiamo e la proviamo proviamo a stare con queste persone che in un primo momento appunto ci sembrano accoglienti ci offrono sicurezza protezione quindi o un momento di fragilità che attraversiamo tutti ribadisco oppure anche una voglia particolare di spiritualità un desiderio di crescita personale uno può anche stare benissimo ma dice però adesso voglia di cambiare vita e ho voglia di fare un percorso e si può affidare quindi non è necessariamente non necessariamente bisogna attraversare un periodo di difficoltà sia 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 ma anche semplicemente la voglia di di crescita personale e quindi è molto facile caderci perché come dicevo prima appunto la setta si presenta come un luogo accogliente che ti dà sicurezza che ti accoglie ti valorizza ti fa sentire amato come non mai ti fornisce risposta a tutte le tue domande quindi veramente attenzione perché non sono appunto come dicevo prima vestiti di nero incappucciati ma sono persone normalissime accoglienti sorridenti che sanno proprio di cosa hai bisogno quindi tu ti senti veramente accolto in quel momento sì secondo me ci sono anche degli aspetti culturali e della società che contribuiscono a accentuare questa vulnerabilità per cui le persone poi si trovano magari ad aderire a gruppi che hanno aspetti settari per esempio la solitudine nelle grandi città il senso di comunità che molte volte si è andato un pochino perdendo e questa voglia di significato e di spiritualità che prima era molto radicato nelle comunità per esempio agricole oppure nelle religioni la religione cristiana i riti del natale della pasqua queste cose che si sono un pochino perse e quindi non sono poi state sostituite con altro per cui secondo me ci sono anche questi aspetti pensiamo veramente la fatica anche litighiamo col fidanzato col marito in quel momento una crisi di coppia non è che deve proprio succedere una catastrofe inimmaginabile semplicemente in un momento in cui siamo più giù sia anche attraverso internet internet purtroppo è uno strumento veramente di addescamento micidiale cioè incontriamo seguiamo la pagina ci vuol niente quindi poi attenzione sì quando si entra in queste realtà veramente hai ragione i social sono un'arma a doppio taglio perché perché sui social ma però però nello stesso tempo è molto più facile sui social presentare una facciata presentare una personalità che poi non è davvero la tua io non sono un'esperta come te faccio anch'io da tramite perché è molto importante se si hanno sentori o problemi di questo tipo rivolgersi a persone competenti e oneste di chiara fama e questo e questo mi porta Rita a farti l'ultima domanda cioè come si può contribuire chi vuole può contribuire adesso fra poco c'è la dichiarazione dei redditi non so se avete se avete anche voi un modo per poter contribuire all'associazione o a queste tematiche allora appena avremo assolto a tutti gli oneri burocratici perché appunto siamo appena costituiti ci manca proprio codice fiscale e l'iban ecco daremo tutte le informazioni appena saremo pronti per il tesseramento per poterci aiutare e ringrazio già chi chi lo farà adesso seguiteci seguiteci sulla pagina instagram potete condividere i nostri post e parlare della pulce invitare le persone a seguire questa è una cosa veramente importantissima la condivisione di tutti i nostri post perché parliamo proprio concretamente dei campanelli cosa fare su una persona entrata in una setta cosa non fare chi contattare quindi per adesso anche la semplice condivisione è un aiuto importantissimo bravissima e poi voi condividete anche titoli di libri podcast risorse online risorse sul territorio ogni volta che qualche pulce perché adesso siamo un esercito di 8000 pulci ci segnala qualcosa noi subito lo condividiamo c'è una bella community grazie rita allora io in conclusione di questo video volevo dire io sono una pulce diventate anche voi una pulce nell'orecchio è sempre meglio un po di attenzione critica in più che in meno e quindi sosteniamo il progetto di rita grazie mille grazie a tutti ciao ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti